C'è una storia bellissima, iniziata vent'anni fa. Mi dispiace che l'ultima partita, diciamo ufficiale, sia coincisa con una non qualificazione mondiale. La colpa è di tutti, direi che sono da allenatore. La colpa è di da vecchio, da penetrazione, di Italia, sta partita rispecchia il paese che stiamo a pezzi. Cioè è lo schifo, il mondiale non può esistere senza l'Italia, non può esistere. Non esiste, perde il calcio. Va all'Egitto, va all'Egitto, i che babbari vanno. Scusa del risultato, assolutamente sì. Non scusa dell'impegno, della volontà e di tutto il resto, ma del risultato assolutamente sì. Che poi è la cosa principale, lo so. Grazie. Grazie.